Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della serie di sopravvivenza Veniamo dalla settimana di Minecraft Dungeons E per questo motivo ho deciso di dedicare questo episodio proprio a un tributo del nuovo gioco di moda Prima dedichiamo un tributo a letto, andiamo a dormire Ragazzi almeno in Minecraft si dorme Vi devo confessare che questo video esce in ritardo perché questa notte ho dormito poco e male E quindi questa mattina mi sono anche alzato per lavorare Ma ero a dir poco uno zombie Al che ho detto vabbè faccio altro e aspetto per registrare quando mi arrivano un po' di energie Energie che adesso più o meno ci sono E infatti partiamo subito mostrandovi due cose Prima di tutto che cosa vado a realizzare Vado a realizzare, qui ci vuole la pick Il trofeo della Redstone Mostruosity Il mostro di Redstone che appunto si trova in Minecraft Dungeons Che battendolo appunto dà accesso a questo trofeo Molto bello, io lo voglio ricreare nel mio mondo Non in casa perché forse ingombra un po' troppo Fare questa cosa andrò a utilizzare un po' di Stonebricks Altri Stonebricks, non so quanti quindi ne prendiamo il più possibile Mi serviranno un po' di scale e sicuramente anche qualche mezzo blocco di Stonebricks Che devo andare a trovare Poi andrò a utilizzare 3 Shroom Light Esattamente 3 Andrò a utilizzare ovviamente blocchi di Redstone Che sono però molto pochi Quindi direi che andremo anche a cercare un po' di Redstone prima Perché con 5 non me ne faccio niente E poi mi serve anche qualche blocco Crackhead Che ho smeltato mentre parlavamo durante l'intro A parte qui dove non ho messo il carbone Quindi fail, ci teniamo questi 24 Prenderemo anche 3 blocchi di vetro giallo E poi ragazzi usciamo un attimino da casa Perché come sapete nello scorso episodio Per cominciare in bellezza questi nuovi 100 episodi Ho iniziato a creare qualcosa che già vedete lì dietro svettare Guardate già la forma quanto promette Picità Una prima montagna Che sarà diciamo una prova per capire se ne sono in grado E nel caso fare qualcosa di più grande In questo bioma qui sulla destra Altrimenti avremo una bella montagnetta isolata Ho aggiunto qualche altro pilastro Tra virgolette Non sono pilastri mai nella vita Qualche altra linea a questa sagoma In modo da diciamo capire bene poi dove lavorare Devo fare giusto due contorni A due altezze particolari E poi sono pronto per mettere i blocchi La forma mi piace un sacco La forma che ho impestato A parte che lateralmente vi devo far vedere Da questa parte Magari ci posiamo qui Ecco da qui si capisce perfettamente Guardate quanto viene sottile E questo è un problema Che in realtà non posso rimediare in alcun modo O l'abbasso Per renderla meno spigolosa Ma un po' mi dispiacerebbe Perché proprio è la base Che è sottile Quindi io mantenendo la forma della base Ho ottenuto questa cosa qui Non lo so Vorrei provare comunque a farla E vedere come esce E in particolar modo ci proverò Stasera alle 20.30 Durante la live Perché stasera saremo appunto In live insieme Sulla survival Vi aspetto Il link lo trovate in descrizione E inizieremo a buildare un po' questa montagna Ci devo lavorare un sacco A FK Cioè FK non direi Off camera Forse il termine è giusto E quindi ho deciso di farlo un po' con voi In live E vi aspetto questa sera Per appunto intraprendere Questo esperimento molto faticoso Mentre noi per il nostro progettino del trofeo Ce ne andiamo Nelle miniere qua sotto Perché devo raccogliere un po' di redstone Un bel po' di redstone Insomma Se vuoi fare la redstone mostruosity Se non hai la redstone Parti proprio male Quindi andiamo a scavare qui Dove tra l'altro Scaverò la maggior parte della pietra Che andrò a utilizzare per la montagna Mi spiace non fare la costruzione della montagna In sé per sé Durante un video Però è una cosa che impiegherà ore Probabilmente E insomma È un po' Poco da video Come costruzione Ci tengo comunque A provare a farla E insomma Se l'esperimento andrà bene Porteremo avanti Questo progettone Di fare delle montagne custom Intanto ho già scavato Della redstone Ma devo Trovarne altra Perché mi sa che mi serviranno Molti blocchi Almeno forse Una trentina di blocchi Per stare sicuro Io li prenderei Li porterei a casa Certo che con questo piccone E il beacon vicino Ragazzi Fare le miniere è una roba Incredibilmente easy Se non ho fatto male i conti Ci dovremmo essere Più o meno Vediamo un po' Allora Quanti ne tiriamo fuori In realtà ne faccio anche più di Di trenta di blocchi Assolutamente Ne abbiamo già trentatré Perfetto Ok direi che possiamo tornare su E metterci al lavoro Svuoto un pochino l'inventario Prima e poi ci mettiamo a costruire Ora visto che ho paura di creare qualcosa di pacchiano E poi pentirmene Ci metteremo qui nella montagna Dove c'è già l'amuleto della story mode E la mia faccia scolpita nella roccia E useremo questa parete questa volta Che è anche un pochino rovinata dal Dagli enderman Che rubano i blocchi Purtroppo E quindi magari la sfruttiamo per Mettere questa sorta di Statua Sarà solamente la testa Chiaramente della Redstone Monstruosity Ora considerate Che Non ho fatto gli slab Quindi torniamo in base Perfetto Considerate Stavo dicendo Che la Redstone Monstruosity Ha una testa Che non rispetta La forma quadrata Anzi cubica Dei blocchi E quindi useremo mezzi blocchi Per definire meglio le forme Ma Non ho i mezzi blocchi Verticali Quindi posso farlo Solamente in orizzontale Grazie Minecraft E ancora una volta Evidenzi i tuoi limiti Non avendo i mezzi blocchi Verticali Quando basterebbe poco Per metterli Va bene Va bene così Va bene ragazzi Identificata un'area Da cui cominciare Io credo che Toglierò questi blocchi Per cominciare Proprio da qui Possiamo metterci al lavoro Allora Farò la Mia stato Tra virgolette Mezza scavata Nella montagna Per comodità E per utilizzo Dei materiali Anche perché Non voglio una testa Così nel nulla Voglio qualcosa Che sia tipo Incavato nel monte Poi magari dovrò Aggiungere della pietra Per rendere l'effetto Meglio Comunque Partiamo da questo punto Io ho già provato A fare in un mondo In creativa qualcosa Quindi so più o meno Come muovermi E partiremo Mettendo Dei blocchi di redstone A quest'altezza 1 1 2 3 4 5 E poi così Li alterniamo Lasciando uno spazio Sì e uno spazio No Sotto Ci vado a mettere Non così Ma un mezzo blocco Più sotto Ci vado a mettere Tanto se avessi Della pietra Potrei già magari Tappare lì Quindi magari Andiamo a recuperarla Ci metto i mezzi blocchi Con un solo Mezzo blocco In più al centro Tornando sopra Invece Prendiamo anche Le scale E prendiamo anche I blocchi E vado a mettere Un blocco Qua Quindi qui Devo ritappare Così da avere l'appoggio Metto un blocco qui E un blocco qui Metto una scala girata Così E una scala girata Cosà E poi Prendo un mezzo blocco E lo metto qui In questo modo Ho creato La bocca Della redstone mostruosity Con il fondo Rosso Di redstone Quando ho creato la bocca Si vede il rosso Nelle sue fauci Questa è stata la forma Più vicina Che sono riuscito a ricreare Intanto ho recuperato La pietra Dalla chest Che ho vicino alla montagna Così sistemiamo anche questo E poi dovremo capire I margini Ma in realtà Mi sa che va bene Anche così Cioè la bocca è aperta Quindi non deve avere tipo Un contorno È aperta e basta Semplicemente Poi Arrivati a questo punto Ragazzi Iniziamo a mettere Gli occhi Per fare gli occhi Userò Intanto riprendiamo anche la stone bricks Userò la shroom light Perché mi sa di Di un occhio mostruoso E quindi la metteremo qui E qui Mettiamo davanti Una fila di tre blocchi Di stone bricks E qua sopra Mettiamo un'altra Shroom light Poi andiamo a prendere Il vetro E copriamo I blocchi di shroom light Con il vetro giallo Per dargli un effetto Un pochino più Particolareggiato E dare quell'idea Di luminosità particolare Che hanno gli occhi del mostro Ovviamente qui non abbiamo shaders Quindi ci attacchiamo Con quello che abbiamo Finisco con i blocchi Di stone bricks Anzi no Da questa parte Inizio a mettere I blocchi di redstone Perché la faccia del mostro Da una parte Ha una maculazione di redstone Quindi come vedete Gli abbiamo creato gli occhi E lì parte la parte di redstone Considerate che L'occhio centrale Nel mostro È un pochino più largo È tipo largo due blocchi Ma è Decentrato Nel senso che dovrebbe avere Mezzo blocco di qua E mezzo blocco di là Verticali Non posso farlo in alcun modo Quindi Ce la teniamo così A meno che Non mi mettevo a fare Un Lato pari Ma poi usciva male Il resto Quindi Sinceramente A me Sta bene anche Con l'occhio In questo modo Ovviamente Li metteremo delle crepe Nella sua Armatura Diciamo E soprattutto In questo punto C'è una crepa Che andiamo a riprodurre Mettendo un blocco crepato qui E uno qui sopra Così in diagonale Dalla parte opposta Invece Andiamo a mettere La redstone Alzando di Un altro Livello E poi Un altro blocco Con il terzo blocco Messo qui Andando sotto In realtà Devo rimuovere Anche questo blocco qua E andiamo a mettere Delle scale girate In modo da creare Quella sorta di Sopracciglio Monoculare Che ha E che sta appunto Sopra l'occhio superiore Che viene Interrotto Dalla parte Dove c'è appunto La redstone E quindi così Abbiamo creato La faccia Della redstone Monstruosity Che ci sta Ok Ora Prendiamo di nuovo Blocchi E mezzi blocchi E andiamo a creare La parte delle corna Le corna del mostro Usciranno Dalla sua testa E saranno Un blocco Più dietro Quindi devo farmi Un po' di spazio Nella montagna E A questa altezza Vado a mettere Un blocco Due Tre E quattro Quindi scaviamo Ancora un po' E ci fermiamo qui Poi Andiamo ad alzare Di uno Due Allarghiamo qui Uno Due Metto Un mezzo blocco Qua sopra Due mezzi blocchi Qua sotto Scavo ora Sotto La parte iniziale Quindi sotto Questi quattro blocchi E metto Uno Due Tre Quattro mezzi blocchi In questo modo Il corno Sembra spesso Due blocchi Ma è decentrato Quindi non sta Né sopra Né sotto Sta diciamo Alla giusta distanza Dalla fine della testa E dall'occhio E quindi È abbastanza fatto bene Le proporzioni sono quelle C'è ancora qualcosa Che mi turba Ed è la mancanza Degli slab verticali Per fare la parte finale Però di nuovo Ce la portiamo a casa così Andiamo dalla parte opposta Dove rifaccio La stessa cosa identica Scavo un po' La montagna Dove mi serve spazio Quindi via anche questo E poi facciamo Uno Due Tre Quattro Mezzi blocchi sotto E poi si sale Qui sopra E mettiamo Uno E due Altri mezzi blocchi E altri mezzi blocchi Facciamo un check Per vedere che sia simmetrico Direi che ci siamo Abbiamo creato la testa Della redstone mostruosity Ma non è finita Ovviamente il mostro Ha altre crepe Non è finita così Ha una texture particolare Con dell'emmaculazione Ma noi dobbiamo cercare Di riprodurla Dal meglio che possiamo Ad esempio Sulla bocca Ha una crepa In questa posizione Quindi andiamo a mettere Anche qui Un blocco crackhead In modo da Dare quell'effetto Di crepa Anche vicino alla bocca Così diventa anche Tutto un po' più carino Poi Andando sopra Purtroppo Altro limite di minecraft Io non ho I mezzi blocchi crackhead Quindi voglio mettere Delle crepe In alcune posizioni Ma non potrò farlo In maniera fedele Quindi diciamo Che andiamo un po' a caso Ne mettiamo due In questo modo Cercando di non far troppo Notare la presenza Dei mezzi blocchi E quindi La mia impossibilità A mettere altri dettagli E poi vado Nell'altro corno E metto Altre crepe In altri punti In modo da Non mantenere Una simmetria In questo caso Tipo posso metterne Uno Qui sotto E uno appunto In cima Vediamo come è uscito Va bene Ci sta Ragazzi Così E' già Molto meglio Adesso vado a sistemare Un po' la montagna dietro Vado a dargli Profondità Dove serve Perché tipo Ci sono dei punti Dove si vede Il vuoto dietro Quindi gli do Una bella forma E poi vediamo Il risultato finito Va bene ragazzi Ci siamo quasi Manca giusto Un piccolo dettaglio Che mi sta Tormentando Quindi cerchiamo Di risolverlo subito E cavolo Mi è partita la freccia Volevo hittarlo Il primo però Mi è partita Una freccia a caso Va bene Ora che abbiamo risolto Questo dettaglio Ci siamo Devo dire Che è bello Mi piace Guarda vado giusto A rimuovere Questo blocco E ne mettiamo Un altro Di terra Sotto così Perché mi turbava Un attimino Comunque ho lavorato Anche un po' Sulla montagna Per inserirlo meglio Lì l'ho leggermente Coperto Lì ho liberato Il corno E poi chiaramente Ho fatto Tutto lo spessore Soprattutto la parte sopra Non potevo lasciare il buco Quindi l'ho chiuso Contro la montagna Ecco Magari c'è un altro Dettaglio Che andrebbe curato Che vi faccio vedere Al volo Se riesco Ad andarci Che è questo qua Ok Questi blocchi Non vanno bene Perché fanno vedere Che la struttura È tagliata Tipo qui Si inserisce Nella parete Quindi non sappiamo Se poi continua La statua Ma qui vediamo La sua fine Quindi andrei a mettere Un mezzo blocco Qui E un altro blocco Che potrebbe essere Un normale Stormbricks qua Così sembra Ben inserito Nella roccia E poi siccome Mi triggera sta cosa Gli mettiamo anche La terra Ora che abbiamo risolto Anche quest'ultima cosa Direi che ci siamo Ragazzi Noi ci vediamo Domani con un nuovo video Mi raccomando E stasera Alle 20.30 Qui sulla survival In live Per andare avanti Col progetto Della montagna Detto ciò Io vi invito A lasciare un mi piace Se vi è piaciuta La costruzione Fatemi sapere Se è abbastanza fedele E se la rifareste Anche voi Un saluto Da Aaron Blaze Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti